L'ondata di maltempo ha creato disagi anche nella provincia terramana, ad Atri, territorio che purtroppo spesso vive diverse criticità a causa del maltempo, è stata chiusa la statale 553 Silvia Atri per pericolo di Frana, un tratto nel comune già al centro in passato di queste problematiche. Sì, soprattutto nella notte scorsa ci sono stati diversi smottamenti, in particolare abbiamo chiuso due strade, quella sotto la 553, diciamo sotto l'ospedale, un tratto della Atri Silvi e anche un'altra zona in Fonte Canale e poi a senso unico in Contrada Piantara un tratto di strada. Insomma ci sono stati anche altri problemi risolti, ora stiamo aspettando un attimo l'evoluzione delle cose per vedere se ci sono ulteriori discesi di terreno per poi sperando di riaprire previo qualche intervento, non ci sono state famiglie evacuate o problemi di questo tipo. A causa della piena del fiume Piomba il parroco di Silvi Paese Don Gaston ha recitato sulla statale adriatica 16 di fronte al fiume carico di acqua una preghiera in latino contro le inondazioni impartendo una benedizione. Ci stavamo facendo le benedizioni di Pasqua e aveva visto quello che era successo e la gente del posto, essendo parte i nostri parrocchiani, erano molto preoccupati. Dunque ho pensato a quello che dobbiamo fare tutti, pregare perché il Signore ci aiuti. Ringraziamo la Divina Providenza e al nostro Santo Stefano che ci ha protetto. Comunque sempre ho detto, là ci sono due grandi patroni, Santo Stefano e San Michele Arcangelo. Si dovevano dare da fare perché veramente non volevamo revivere quello che era successo tanti anni fa. E ringraziamo la Divina Providenza che ci ha benedetto e ci ha aiutato. Il popolo silvarolo è molto credente e sempre Silvia è stato salvato dalle grandi catastrofe per l'intercessione di Dio, il grande terremoto in Silvia Alta e dopo la festa di San Leone che sarà tra poco, anche là siamo stati salvati al suo momento dell'invasione turca, sempre per l'intercessione dei nostri santi. Dunque è sempre attuale, il loro aiuto è più che mai in questi tempi.